Buongiorno a tutti, vi presento l'Holmix, è un vero emulsionatore per pasticceria e per gelateria. Abbiamo qua la nostra attrezzatura per poter lavorare, per poter realizzare le nostre ricette. Quindi abbiamo il canotto, abbiamo l'albero per poi poterlo montare. L'albero è in acciaio, andremo ad inserire in questo senso, unendo o questo pezzo di nardite per le paste fredde o per le paste calde, questo qua è un ortone. Quindi lo inseriamo semplicemente così, inseriamo il copricoltello dalla parte sopra, scegliamo quale vogliamo usare e per che cosa in questo caso? Per la frutta, per le creme, per crearsi la pasta di nocciola, la pasta pistacchio, la pasta di mandorla, oppure crearsi le ganache che va a eliminare completamente l'aria. Inseriamo la parte sopra, lo andiamo a girare, si fa tutto in modo manuale, molto semplice e molto veloce. Prendiamo il nostro canotto, la parte del taglio andiamo ad inserire il nostro prodotto, lo andiamo ad avvitare. Non possiamo sbagliarci, perché se lo montiamo in modo sbagliato non possiamo montare la macchina. L'avvitiamo e lo andiamo ad incastrare. Andiamo ad avvitare e abbiamo pronto la soluzione per fare le nostre miscele. Grazie.